Inter Sassuolo, ultima partita del girone di andata, partita che si disputa a mezzogiorno e mezzo e può consegnare ai nero-azzurri il titolo di campione d'inverno, titolo indicativo che significa poco ma significa tanto per i nero-azzurri, lontani da troppi anni dalle posizioni che contano della classifica. Per farlo Mancini deve battere gli emiliani rodati, collaudati di Francesco, pensa di schierare un 4-3-3 confermando la squadra che ha battuto Lempoli, con l'inserimento di Tejes al posto di Nagatomo l'esclusione dall'inizio di Jomitic, al centrocampo con dobbià, vero punto interrogativo di questo inizio stagione della squadra di Mancini. Mi si chiede, migliorerà l'Inter sotto il profilo del gioco? La risposta è probabilmente no, ma questa cosa interessa relativamente a Mancini che ha ben chiaro nella sua mente l'obiettivo della squadra, riuscire a conquistare un posto nella prossima Champions League. La cosa passa dal bel gioco, non per forza.